Sono stato contattato da tanti cittadini, circa l'autovelox posizionato nei pressi della Galleria del Furlo e siccome è mio dovere rispondere ai cittadini, e visto che tra l'altro dietro l'autovelox non c'è il segreto di Stato, ho contattato le autorità competenti per chiedere informazioni. Mi hanno comunicato che quello è per ora solo un dissuasore di velocità, come ce ne sono tanti in giro, e che quindi non vi è all'interno un autovelox, una cosa che tra l'altro prima o poi si sarebbe venuta a sapere presto come avviene dappertutto. Invito comunque tutti gli automobilisti a tenere una velocità moderata nella Galleria e nei pressi della stessa, visto la presenza di tanti cantieri. La nostra vita e la vita del prossimo è una sola, andiamo piano e rispettiamo i limiti imposti dalla legge.